Il giorno dopo l'operazione della Digos di Salerno che in collaborazione con i colleghi di Napoli ha consentito di assicurare alla giustizia un pericoloso terrorista gidaista, un 29enne marocchino ricercato in ambito internazionale ritrovato in località Lido Lago, vicino Battipaglia, il questore di Salerno Maurizio Ficarra non si è sbilanciato sulle indagini delicate e riservate ancora in corso anche in relazione a possibili complici presenti sul nostro territorio del pericoloso latitante. L'uomo è accusato di lavorare alla preparazione di possibili attentati e anche di raccogliere fondi per finanziare atti di terrorismo. A disporre l'arresto era stato lo scorso 28 giugno il procuratore generale presso la corte di appello di Rabat. Il provvedimento era poi stato esteso in campo internazionale e a sottolineare quanto sia stata importante la collaborazione di tutte le forze a livello internazionale è stato questa mattina proprio il questore di Salerno che nega però che ci sia un allarme terrorismo in provincia di Salerno anche collegato alla numerosa presenza di cittadini immigrati. No, dettagli non ne possiamo fornire. Ovviamente come potete immaginare la materia è abbastanza delicata e riservata. L'arresto solamente dimostra appunto che il monitoraggio è continuo nei confronti delle attività in direzione della sicurezza antiterrorismo. La collaborazione internazionale è stata fondamentale in questo caso, una collaborazione che ha visto interessati i servizi di sicurezza e le autorità marocchine con i servizi di sicurezza e le autorità italiane, l'Ufficio Centrale di Prevenzione del Dipartimento dell'APS e le Digost di Napoli e Salerno. Fortunatamente noi siamo riusciti a identificarlo dopo la segnalazione delle autorità marocchine e l'arresto è stato compiuto in sicurezza massima. Come proseguono le indagini su questo fronte? Si indaga anche su altre persone che erano vicine al personaggio in questione? Ripeto, noi dettagli non ne possiamo fornire, però il nostro monitoraggio è continuo. Noi stiamo continuando a investigare, però non ci sono segnali di preoccupazione che attengono alla provincia. Diciamo che è un fatto logistico il fatto che lui si trovasse nella nostra provincia, ma non ci sono particolari motivi di allarme. La presenza di questo terrorista non è legata a un particolare insediamento di immigrati in una determinata parte del territorio. Noi monitoriamo continuamente gli ingressi e le uscite dal territorio, noi abbiamo sempre la situazione sotto controllo ed è casuale che sia stata quella la zona del territorio dove è stato arrestato, ma non è assolutamente legata alla presenza di determinati immigrati che si trovano in area di questa provincia. Grazie.